In attesa delle piogge previste per i prossimi giorni si calcolano intanto i danni della siccità che ha colpito il nord Italia negli ultimi mesi. A Udine, nel cuore della produzione vignicola friulana, stanno studiando un innovativo sistema di conservazione e di distribuzione dell'acqua. Ce ne parla l'inviato Marco Cosenza. Quest'anno ha mai piovuto, dalla fine di giugno agli inizi di settembre, con temperature anche molto elevate e che hanno messo sotto stress la pianta e la qualità del prodotto. Secondo Coldiretti le precipitazioni sono scese di oltre l'80% rispetto alle medie del periodo, soprattutto nel nord Italia. Questo, per chi lavora la terra, significa perdere anche un terzo delle produzioni. Per evitare di rimanere a secco, in Friuli stanno studiando una serie di invasi non invasivi, una rete di serbatoi naturali, capaci di dare una risposta mirata e sostenibile all'emergenza idrica. Qui abbiamo una centralina che rivela praticamente l'umidità del terreno e dà l'impulso a un computer in remoto che segnala quando è il momento di bagnare, perché sarà la vite a chiedere l'acqua, non noi a decidere di dargliela. Bacini ad hoc per vini doc, con un'iniziativa partita dal basso e che ora cerca il necessario sostegno istituzionale, perché come sostengono nelle terre di Re Fosco, Ribolla Gialla, Pinot Grigio e Sauvignon, la migliore opera di prevenzione è la pianificazione, con un occhio all'economia e uno al territorio. Andiamo a intervenire complessivamente in 12 siti per realizzare dei piccoli invasi che consentono l'irrigazione nelle stagioni siccitose. È previsto un costo di circa 400 euro a ettaro per le aziende agricole, mentre le mancate produzioni, in stagioni particolarmente siccitose, sommerebbero qualche migliaio di euro.